I viola trascinati da Antonioni marcano una chiara supremazia territoriale. Al ventesimo Lucci interviene e suddichiara. Per l'arbitro Delia è rigore. Al tiro Antonioni. Drago respinge ma il capitano raccoglie e insacca. Uno a zero. Al ventisettesimo della Monica è fermato da Galbiati. Rigore. Gran botta di Casaroli e uno a uno. La partita non avrà più storia.